Buongiorno, sono Gabriella Gubertini, titolare del Centro Estetico e Sentieri Spa di Trieste. Qui c'è la mia collaboratrice, Paola Faberi, masso-terapista. Lavoriamo con Aponus già da quattro anni. Sono linee che io le chiamo spaziali perché sono naturali, ci danno degli ottimi effetti sia su viso che su corpo. Quindi la consiglio a tutti, la consiglio perché i risultati sono spettacolari. Le clienti stesse ci scrivono su Google gli apprezzamenti che dopo i trattamenti vedono gli effetti immediatamente. Ci troviamo all'evento per conoscere questa nuova linea che io già ce l'ho in istituto. Me lo sono fatta arrivare in anteprima a dicembre, la stanno già utilizzando dei miei clienti, soddisfattissimi. E quindi la consiglio a tutti, la consiglio perché diciamo che in tre step di prodotti domiciliari danno i suoi effetti. Poi se mettiamo che facciamo anche dei trattamenti viso in cabina e in più diamo i domiciliari è ancora meglio, amplifichiamo l'effetto. L'acqua termale che ha il suo effetto che è indescrivibile. Ecco, poi i sieri perché sono spaziali. E il fango perché è la chicca finale di tutto questo. Ecco, perché acquistarli Paola? Sono dei prodotti eccezionali e con dei risultati al top.